Ciao ragazzi, sono da Sussabotato3, eccoci qua in compagnia di Newton. Ciao ciao Newton. Dove sei? Eccoti lì. Allora, che facciamo oggi? Newton, abbiamo preso nello scorso gameplay che c'eravamo persi. Che facciamo oggi, Newton? Lui non vuole lavorare oggi, dice di no, vedete? Eh, vedete, sì, ho ragione, no? Ok, Newton oggi diciamo che ha avuto un piccolo incidente con l'Atac, voleva mangiarlo, mi si è attaccato il Super Attack nelle labbra, sì, vedete? E addirittura mi ha detto che da domani vende l'Xbox e non ci giocherà più, vero? No, sta dicendo di no. E ha detto che ha perso 15 a 1 contro la Juve a FIFA 18. No? Ok, è che è un cittone su GTA, sì? Ecco. Bene ragazzone, dopo di questo adesso lo facciamo lavorare, invece Newton può parlare, sentiamolo. Ok, vai. Eccolo qua, Newton. Ok, allora oggi dobbiamo metterlo sotto ragazzi, oggi qua che facciamo? Spalliamo un po' di neve. Tu mi hai detto vieni, ti dobbiamo fare una cosa. Ok, tu sei da ieri che aspetti trepidamente cosa faremo, allora trovo io che facciamo? Invece lo aspetto da due ore. Da duemila ore. Allora, d'oggi facciamo una bella cosa, si chiama un campo di tennis, che ogni tanto bisogna fare un po' di sport. facciamo il campo da tennis. Mai giocato a tennis? Tutta la sabbia rossa che si fa. Eh, il campo da tennis si fa con la sabbia rossa, eh. No, ma perché copro se dobbiamo fare il buco? Allora, innanzitutto dobbiamo decidere dove farlo, come farlo. Beh, intanto spalliamo un po' e poi vediamo un po' le dimensioni, eccetera, eccetera. Io penso che ci siamo più o meno. Non deve mica essere tanto grande, eh. Quindi diciamo che qui, Newton, qui ci sarà praticamente la zona sportiva. Dove ci sarà campo da tennis, da calcio, da ballavolo, chi lo sa. Magari ci può stare anche lo Juventus Stadium, quello che piace a te. Ma anche, no? li mettiamo sotto la TNT, lo facciamo esplodere. Oh, sì, vai, facciamo. Allora, a mille mi piace, ragazzi, a mille mi piace, facciamo lo Juventus Stadium in 15.000 puntate. A quante? A mille mi piace. call. A mille mi piace. A mille mi piace, facciamo 20 puntate. Lo Juventus Stadium, lo Rubentus Stadium e lo faremo esplodere con la TNT, che comporterà un casino dei sacrifici, che dovremmo amarciare 40.000 creepers. A un mille, mille. Un progetto faraonico, qua bisogna, bisogna avere i big mi piace. Lo faccio no 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 lo facciamo bello è e vabbè ragazzoni noi tanto spianiamo andate andiamo a dormire poi spianiamo ok seduto adesso sto andando a prendere la cosa lì il calcio estruzzo bianco le angurie ecco come ci sono già perfetto adesso noi praticamente adesso newton sta facendo le basi del campo a proposito vero mi serve anche come si è messo newton è finito io mi prendo 111 mannaggia sono pieno di ok allora mi devo fare che cavolo però niente devo andare un attimo in magazzino svuotarmi di di terra perché ne ho troppa vaga newton sta venendo proprio bello è newton dicevo ragazzuoli che praticamente adesso vedete newton ha già finito sta un attimino sistemando allora io direi che qua ci facciamo le strisce del campo sì no ma qua vabbè allora qua faccio così e qua gli ha messo un'altra strisce no 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 cioè bu si dai mettila dai però io devo scavare una dentro allora no 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 aspetta è vero no io volevo farle il contorno di un'altra roba ah che furbo che sono sbagliato vabbè allora il contorno lo fai qua il contorno di un'altra roba ma non in terra il contorno volevo farlo in qualcos'altro no 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 guarda poi quali metti eh li metti a sabb e quali fa il contorno qua allora qua facciamo le strisce quali fai un contorno da due il contorno bisogna farlo di qualcos'altro cioè cosa ci può essere come vabbè sempre terra rossa è vero c'è come contorno è vero il contorno vuoi fare un contorno da due di di sabbia rossa perché se tu vuoi vedere che ha perché ho preso la terra allora vuoi vedere che non mi basta il coso ah ci dovrebbe bastare dai ci spero perché devo fare ancora un po di strisce eh vabbè che ce n'ho ancora eh nessun problema però quanti ne hai ancora? eh ne ho 34 si allora poi aspetta ah caspita dove è la metà conto poi i blocchi speriamo che sia giusta oh benissimo allora abbiamo praticamente quasi completato il campo devo prendere devo craftare eh sbarri di ferro come cavolo si fanno dove sono? beh ah forse qua eccole qua mancano solo dei lingotti di ferro qua che ne ho prendo solo uno stack dato che ne abbiamo leggermente in abbondanza grazie alla farm de ferro allora dove cavolo erano qua ok allora poi mi serve questo no questo no allora fatemi pensare fatemi pensare allora qua no dove cavolo è materiale dell'endo ah qua è 5 mi bastano arrivo Newton mi sono avanzati 3 blocchi di argi di pastruzzo bianco ora vediamo la vo vo la vo vo la vo vo la vo parapapapa Newton mi sa che non c'è è crashato Newton non c'è più ah sta lavorando Newton eccolo la Newton si è buggato ok Newton ah bravo Newton sta facendo allora io direi che giusto a scopo informativo mettiamo questo qua lo mettiamo qua e mettiamo questo qui facciamo la rete ragazzi che ci cade anche in mezzo tra l'altro così così perfetto preciso adesso noi lo abbelliamo poi lo finimmo facciamo tipo le panchine il recinto esterno ma vediamo eh intanto serviamo Newton che va a prendersi i ciotoli lì sbaccandoli quando c'è la farm automatica fatta da lui i ciotoli questo vuol dire che apprezza le sue cose fatte da lui vuol dire che non funziona e quindi che fai il recinto ah recinto anti invasione di campo aspetta che ti do un piccolo spoiler di qua faremo qualcosa di più ti servono ancora un 2 qua dove tieni qua dove sei tieni qua quanto me l'hai tirato infatti è uno stack di ferro uno stack di ferro madonna e Newton mi regala una canna di pesca vabbè ragazzi allora facciamo così io mi prendo un pesci intanto che chi dorme non piglia pesci adesso vediamo con la canna di Newton cosa prendo dopo vedi gli asini volanti esatto alle family friends for tutti e andiamo così e andiamo così ragazzi allora mi sa che la tua canna è rotta eh vediamo che ho preso tanto sappio sei un grande pistino un salmone crudo ho preso ti ho buttato in acqua è affogato e ho buttato in acqua bene ragazzuoli allora diciamo che per adesso ci fermiamo qua come sempre io vi ringrazio vi saluto commentate scrivete lasciate mi piace eccetera eccetera io vi ringrazio vi saluto ciao da Sampato 3 da Newton ciao Newton ciao